giorno 5, colazione veloce per poi scendere subito perchè sennò qualcuno muore d'ansia eccoci arrivati al porto di Atene con 8 minuti di anticipo così qualcuno smette di rompere il cazzo ma no corri prima che la navetta parta corri corri vai a pollo amo c'è una palla di pelle di pollo c'è sempre un Irish pub comunque non pensavo che fossimo a Palermo ora tu non ci sei mai stata ma il porto di Palermo è uguale si il secondo posto dove andavo sempre per degli arancini c'è un porto che è identico a questo perchè il primo era in mezzo alla città dove stava mia zia la prossima volta a Palermo palentieri dei parenti però per soli ingrati c'è un gabbiano ciao gabbiano ciao gabbiano c'è un po' di ventola a queste parti ma anche la realtà è che c'è un sole che ti ammazza il problema è proprio il vento di mare che ti distrugga l'impigna tutto oh dopo una lunga traversata in pulman giallo finalmente eccoci arrivati all'acropoli ovviamente in ristrutturazione anche questa è colpa sua qualunque cosa andiamo a vedere è sempre colpa sua ecco vedi ti sta mal giudicando la signora hai ragione vedi è proprio donna franzisca che ti guarda dall'alto in basso e ti giudica chiedi perdono certo che ad atene ad aprile il caldo è già come i primi di giugno giù da noi no io ho freddo ma tu perché sei una caghetta mi sto sudando guarda quei due piccioni che si amano stanno litigando un pezzo di panno non lo so no si vegliene bene eccolo il primo amico atenese ciao dicio atenese prendere la lavanda e tutti la toccano e soccarla anch'io però abbiamo avuto il permesso quindi prendi un pezzettino anche per me si può prendere? si cioè hai preso l'unico germoglio tu buona la lavanda posso mangiarla? no questo in teoria è il museo della croccoli come dice la guida che stiamo ascoltando illegalmente queste sono città costruite su città che sono state costruite su città che sono state costruite su città poi c'è un pozzo dove mettere le montagne e i nostri desideri quindi se sbagli non si avverano poi dopo quando il pozzo è pieno vengono e tirano su tutto e ricostruiscono un po' il museo chissà se farà boh chissà quanti anni costruiranno qualcos'altro anche su quest'altro museo dici che la trova una spilla da aggiungere? può essere io voglio la spilla di gardaland quella lì quella che sta riprendendo non me l'ha fatta prendere l'anno scorso non è vero si non è colpa mia si invece mi hai detto neggia troppe no bene il biglietto è stato preso e l'american architecture cardboard è stato preso nel 2011 da questo museo benvenuti nel museo dell'acropoli i cartoni dell'antica grecia questi sono gli episodi di paperinus e bambis ma c'è anche il cerbiatos eh appunto bambis questi sono tutti i modellini probabilmente nei vari anni in questa è ricostruita quindi questo è nel quinto secolo prima di cristo questo nel secondo terzo dopo cristo e infatti c'è già più roba hanno fatto gli appalti e quello nel quindicesimo secolo dopo cristo in cui dopo aver appaltato hanno tirato giù tutto siamo passati come alla metropolitana di Milano ed eccoci qua già nell'area dei vasi antichi questo me lo ricordo c'era pure in ercole camminare su sto pavimento dà una sensazione veramente strana ma che bello il gufino ah ma guarda i selfie che si facevano una volta ho letto che probabilmente loro sono le figlie di Zeus oh no quale delle mille donne che si è fatto Zeus sono le figlie queste? non ho specificato sai che Zeus si trasformava in animale per scopare le donne? si me l'avevi vedere cioè no forse l'avevo letto io però si lo sapevo ok senza arte ne parte senza leggere soprattutto cosa c'è scritto ipotizzo che questo sia Ercole che combatte contro il leone o contro una delle altre bestie meteorologiche di cui lui ha combattuto e infatti avevo ragione è Eracle e il Tritone se non avete visto l'ultima stagione di Record of Ragnarok ve la consiglio c'è anche Eracle e come attacchi usa proprio i nomi delle varie fatiche la mia vicina aveva dei piatti uguali attaccati alle pareti probabilmente li avevano presi anche loro da queste parti questi sono i vari minerali con cui loro facevano tutti i pigmenti per le varie colorazioni e per chi segue anche il capitano Barbascura saprà che uno dei pigmenti più rari che si trovava era l'azzurro o il blu tutte le sue tonalità quindi a parte i lapislazuli creare con piante o altre cose il blu era veramente una cosa difficile soprattutto nel periodo dell'Egitto poi unendo i vari colori se ne creavano altri ovviamente qui invece abbiamo gli attrezzi da muratore con cui grattugiavano tutte le varie pietre tra cui il marmo e appunto tutti i vari minerali e parlando dei minerali qui abbiamo tutti i vari tipi di pietre tra cui anche il carbone, l'azzurrite, l'emalachite, l'achirolorocosa, l'alcinabar, l'ematite, la regar, ocre, l'orfeite e il led white con cui appunto poi creavano le varie polveri che unite a vari liquidi creavano i pigmenti Della statuetta che avete appena visto ho fatto una battuta semplicissima mi sono avvicinato a lei c'era anche accanto una signora gli ho detto ah ma guarda sta andando sullo skateboard e l'altra signora si è messa a ridere e se ne è andata via comunque nella ripresa di prima in cui facevo vedere le statue che ho dovuto ovviamente interrompere perché mi hanno detto che non si possono fare né foto né video guarda un po' cosa stiamo facendo ho pensato che effettivamente non sono tipo da museo nel senso non sono la prima scelta che farei per vedere un posto io sono più quello che gira appunto nella città però vedere sempre queste cose ti da un senso di completismo forse non lo so forse anche perché mi immagino fra centinaia, migliaia di anni cosa potrebbero ritrovare e pensare di noi c'è un cane seduto, amo siamo arrivati all'ultimo piano questo è il piano con tutte quante raffigurazioni su roccia, marmo vari tipi di pietra e sono tutte quante rappresentazioni ovviamente mitologiche e oltre a quello abbiamo un'alta vista della città da qui benvenuti a una nuova puntata di Super Quark c'è ancora un pezzo qua, mi sa che sono souvenir si vuoi vedere le finte statue che puoi comprare allora non è un cattivo museo però 15 euro un pelino tanto guarda amo le uova di Pasqua dell'antica Grecia quando la Pasqua ancora non esisteva c'è ancora un pezzo passando attraverso questa piccola stradina mi ricorda un po' lo scavo che abbiamo trovato totalmente a caso a Brindisi solo che lì era gratuito e comunque quelle erano romane non vecchi greci no in realtà è tutto bellino anche qua sembra tutto molto simile d'altronde la cultura romana era stata molto influenzata anche da quella greca al tempo d'altronde molte delle cose che i romani fecero erano evoluzioni alla fine di quello che i greci avevano già fatto poi si parla di antica Roma quando alla fine cos'era un romano al tempo se non l'insieme di tante altre culture mischiate è sotto lo stesso impero guarda quanto non so un cazzo di storia ma faccio divulgazione è proprio vero che chi non sa insegna siamo in Italia d'altronde guarda amo c'è un'antica cantina lì tenevano il vino vorrei scendere sicuramente tu ci entri lì l'altezza è uguale alla tua è il micio dell'acropoli piccolo lui sotto il sole che se la gode lui si che se la vive bene già con la consapevolezza che sarebbe stato così Atene ad ora è stata la spesa più grande di tutta la vacanza però vabbè Atene dove ti giri c'è roba da vedere c'è roba da guardare c'è roba da pagare e ci sono gattini da coccolare già ancora prima di salire verso appunto il Pantenone ci sono già le statueone erano più carine dentro quello il museo dai però dai non ci si lamenta nonostante tutto e sono anni che non ci gioco più mi sa che ricomincio da capo tutti i God of War magari li porto sul canale c'è scritto che è del 200 before Christ quindi avanti Cristo quindi c'è più di 2000 anni e c'è una cimice che ci cammina sopra e via non si va si paga il biglietto ma che bel trono beh è come un confinale migliore di Game of Thrones solo perché oh no spoiler guarda le farfalle che vanno in giro per le antiche rovine con sopra l'erba chissà chi un giorno mangiava da queste parti chissà quanto vino bevevano chissà quanta ambrosia si sparavano in vena saluta i fiori ci sono anche tutti gli uccelli e tutte le farfalle di questa zona c'è anche il gufo che è il simbolo probabilmente di tutta la Grecia se non fai attenzione ci sono anche i serpenti amo no scusa stavo leggendo ci sono i serpenti dove? qui nel parco qui? ma smettila guarda è scritto lì ma smettila amo non sto scherzando lì ciao sei così elegante e bello tu pensa come erano già avanti i greci scrivevano già in inglese che c'è? sei rosso mi scusi per il teatro da quella parte ed eccoci arrivati al teatro di Dio essere da queste parti mi fa salire una voglia di rigiocare veramente God of War come non l'ho mai fatto prima più che altro visto la strada che stiamo facendo mi continuo a chiedere se arriveremo a quelle porte là me lo continuo a chiedere e non ho risposta visto che non vedo nessuno salirci finora no non penso guarda è pericoloso non c'è neanche un sentiero lineare i sentieri vanno vanno calpestati per poterli creare amo ciao piccione vedi questa è una di quelle stradie che nessuno sta percorrendo perché salgono tutti verso l'alto però di qua si può entrare e siamo arrivati alla stoa eofo e munes che non so cos'è né chi sia però vabbè è sempre bello da vedere no? soprattutto quel piccione marrone bianco sta mangiando il tempio di Asclepios la cosa bella è che hanno ancora un colore perfetto di quel marmo fa quasi pensare che siano nuove quelle comunque sono il tipo di colonne che durante storia dell'arte cercavano sempre di insegnarmi ma che io nella mia vita non ho mai imparato la differenza non ho mai capito la differenza tra un capitello pirinzio e tutte quelle cose lì ma non perché fosse difficile ma proprio perché non mi entravano in testa non ho mai avuto testa io per la storia né tantomeno per la storia dell'arte eh lo so salta come fosse un livello di super mario vai non si può certo che si può sono lì apposta questa si che è un'arena non come quella di Verona ciao amici di Verona pensa quanto sei in alto prima il pullman era tipo là in fondo la sotto il termine ci siamo quasi in realtà non è il più ad alto manca ancora tutto quel pezzo là sopra però rispetto a dove eravamo prima diciamo che un bel pezzo l'abbiamo fatto dai oh eccoci qua finalmente siamo finalmente arrivati nella zona antica di Atene e da qui prende praticamente tutta la parte interna della città guarda quante case guarda quante ce ne sono la cosa più bella che io abbia mai visto guarda la c'è anche un altro piccolo tempio forse quello di Zeus quello siamo veramente molto in alto e ancora manca un pezzo è così in reale essere qui in un posto del genere che ti fa sembrare di essere in una di quelle attrazioni a tema tipo Gardaland o Mirabilandia sembra quasi talmente finto perché di solito queste cose sei abituato a vederle ricostruite appunto finte a Gardaland e altri posti del genere e poi quando ti ritrovi in un posto così vero sembra di essere da tutt'altra parte comunque quello è colpa tua è colpa tua se è ristrutturazione di nuovo ancora qualcosa lo so ieri tutti i musei chiusi in ristrutturazione tutta l'isola è in ristrutturazione oggi tutto quello è davanti è in ristrutturazione perché non mi sopprimi che facciamo prima così non sarà in ristrutturazione più niente amo la testa ci dovremmo accontentare di guardarlo da qui perché tutto è ristrutturazione poi non è neanche detto che se non fosse ristrutturazione potevamo entrare è in ristrutturazione dal 1983 cioè ha iniziato nell'83 e sta andando avanti ancora cioè non è finito dobbiamo chiamare dei bergamaschi? beh potrebbe essere un'idea il micio è in cima alle antiche rovine lui è il micio della cultura e via c'è un odore di chiuso che sale da qua in basso e arriva fin qua sopra c'ho fame ora da quante case siamo in troppi non so se siamo nel punto più alto della Grecia però sicuramente siamo molto in alto no di sicuro no perché quella parte è molto più in alto effettivamente però da qui probabilmente hai una delle panoramiche migliori ma io ho una teoria è già tipo la quarta quinta guardia che vedo con il giubbottone pesante quello di piume il Montclair queste cose qua e ho pensato ma non è che per loro questa temperatura è ancora fine inverno inizio primavera e ci hanno freddo io sto sudando per loro magari fa freddo eh beh è arrivato il momento di rifarci la discesa e mentre scenderemo visto che tanto tutto quanto la salita l'abbiamo già vista prima metterò in carica la macchia che sta per morire e dietro la cabina telefonica si nasconde micino che mangia no non volevo offenderti scusami sei bellissimo lo sai e ora con questi scalini incredibilmente poco sicuri è il momento di addentrarci nella città nella nuova acropolis c'è un maiale gigante lì ci sono anche i cuccioletti un maiale gigante coi cucciolini per come dicevo anche prima che cos'è un romano se non l'unio di tante culture questa può sembrare una agora greca ma in realtà è una agora romana sembra quasi che non ci sia differenza ma tanto sono rovine quindi di conseguenza uno potrebbe dire che fossero anche agora francesi e uno ci crederebbe perché lo dicono gli archeologi giusto? questa è tutta zona dei mercati invece ci sono un po' di mercatini da tutte le parti sperando ce ne sia anche uno dell'usato che cosa compreremo oggi da manzuchiare? gnam 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 ah guarda finalmente vediamo il prezzo 1 euro e 70 io le vorrei provare non so te ma anche tipo queste qua della pizza te le vorrei provare io vorrei qualcosa di dolce beh lì c'è il cioccolato abbiamo scoperto che la elma di ieri in realtà l'originale non era quella alla mela ma è ovviamente la classica quindi quella alla mela che ho adesso dentro la nostra stanza che è nel frigo bar ce la beviamo questa la teniamo però ho preso un'altra per lei oggi oh si ci hanno interrotto un attimo per farmi i complimenti per il mio zaino e le mie meravigliose spille comunque per lei ho preso la summer sun smile edition che è guarda un po' la fragola hai visto? guarda un po' il culo guarda una mia com'è? è limited edition addirittura buonissima ha sempre il retrogusto di taurina classica però c'è anche quella quel tocchettino di fragola che lo rende più buona proviamo anche la barretta anche oggi lei ha voluto provare una barretta si chiama corny big addirittura non si è mai è il caramello salato ieri il twigs al caramello salato era buono non mi ha dispiaciuto però ho preferito altro il cerealoso o il riso soffiato il caramello salato è particolare ci deve piacere come sapore i cazzetti legno ah che bello sei di nuovo al sud Italia purtroppo il tempo è abbastanza risicato e non avremo tempo di vedere tutto 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 il cerchietto che volevo il cerchietto che voleva però giustamente almeno abbiamo visto il grosso diciamo abbiamo visto quello che era importante ecco questo è quello che cerco io all'interno di un nuovo paesino la zona tutta dei mercati ma non perché voglia comprare e basta ma perché spesso queste sono le zone che ti permettono di comprare più roba e a volte anche di ricevere un sacco di inculate ma è perché sono l'anima di queste zone sono pieni di negozietti del cazzo che vengono stronzate o di cibo che trovi solo da queste parti o ad esempio tizio che vende monete da tutte le parti del mondo che è una cosa comunque incredibile o il negozio di scarpe delle bans c'è un sacco di cose o anche il negozio che vende magliette metallare ma sembra il quartiere londinese come si chiamava quello camden town mi sembra e questa è la greek town siamo per puro caso entrati in una simil fumetteria cioè non è proprio una fumetteria vendono un po' di cose varie e ci hanno un sacco di statuette, poster un bel posto, tappetino guarda dietro le cose di harry potter amo c'è anche uno splendido terminator non so dove stiamo andando ma c'è tutto un muro con le copertie di dischi in vinile penso che stiamo entrando tipo in un in un rock caffè o qualcosa di simile no scherzando è un negozio di musica quanto amo i carretti dei vecchietti trovi sempre qualcosa di incredibile sta zona queste sono le cose belle da vedere in un paese amo le vie piene di mercati che non puoi neanche passare quando sono pieni dove ti rubano il portafoglio anche solo se ti sbaglio vabbè così suona tutto male però sono queste le parti belle che mi piacciono allora ho trovato un negozio dell'usato ma in realtà non è questo che ha attirato la mia attenzione principalmente ma quello insegna là in fondo quanto amo anche i mercati dell'usato all'estero c'è roboraptor pure ecco questo è quello che mi aveva incuriosito ah no cavolo è probabilmente un ristorante o qualcosa però va che il signofiga che ci hanno cavolo fosse stato aperto ci avrei dato un'occhiata di sicuro siamo riusciti con un po' fatica a tornare sua fatica soprattutto a tornare al pullman e tra un po' partiamo e visto che in teoria sulla nave non si può portare del cibo io le proverei no dai dai ma certo che si può non si può mica te le fanno buttare e poi dove le buttano le porto ma dai e danno i pesci e ma si può mettere il pullman lo dici tu sempre quei ragazzini che andavano in fondo a fare il casino durante le ginghe perchè non lo sono si io invece ero quella che stava davanti perchè va al maldout e non aveva nessun amico ora stai insieme a quello che faceva il casino quindi è colpa tua scegliteli meglio la prossima volta ora è l'unica che mancherò mi finisce il banchetto sicuro non c'è una vera e propria correlazione ma stare in queste zone questi paesini così questa città che le vedo passare così mi fa venire voglia di continuare da in line c'è un caffè che si chiama leo caffè e come loba non cane con una caravatta beh che dire eccolo qua dove era l'hard rock ho cercato per Atene ho detto il pilotino che ci porta fuori dal porto sta arrivando certo che se non parte Boccelli queste navi non partono proprio amo chissà quanto prende Boccelli alla CIA ogni volta che sta musica parte ciao Atene ciao Grecia è il perro dormiente del porto ok tiriamo fuori dal frigo bar la nostra L alla mela e mettiamo dentro quella originale che così me la porto a casa odora leggermente di mela rossa a differenza delle altre questa la mela si sente molto più leggera anche perchè questa è normale non è senza zucchero quindi copre un po' il sapore della taurina però la mela c'è un po' per te è uguale a tutte le altre vero? si è identica a quella di prima ma no quella di prima sapere è di fragola mi sembrano tutti lo stesso energy drink ma è buonissimo eh mi piace però non sento la differenza tra la fragola e la mela forse perché ma perchè allora la mela in realtà è molto leggera rispetto tipo a quella al melone però è leggero questo ti capisco che sembra un energy drink qualsiasi insomma uno dei tanti energy drink che puoi trovare in giro per il mondo siamo quasi finalmente usciti dal porto superata con l'ultima barriera saremo ufficialmente fuori dal porto di Atene o meglio del Pireo ciao Grecia ho fame non abbiamo mangiato oggi perchè giustamente col tempo risicato non potevamo fare tutto di tutto è un miracolo che siamo riusciti ad arrivare alla strada dove c'erano tutti i mercati andiamo al buffet tanto è dietro quella porta non è proprio qua dietro ma dai stiamo un pochino a vedere il mare si ma è quello che vedremo per 24 ore domani dai alza di che voglio mangiarti dico famo mi devo alzare sul serio ahia ma sono comoda e ho caldo perchè mi scaldi tu allora abbiamo il cheeseburger e quello al pollo quale vuoi tu cheeseburger vuoi anche le patate ok ok certo quale è la mica di nocce il nostro pranzo merenda che oggi non abbiamo mangiato ho preso quello al tacchino che sicuramente mi aiuti alcuni fast food appetito buono beh dai siamo pronti per la cena oggi ci hanno detto di vestirci di bianco ma la miglior cosa bianca che c'ho è questa maglia grigia e sono tutta una tonalità di grigio oggi incredibilmente beh non che lei faccia eccezione ha solo un maglioncino bianco bella tu sembravano i backstreet boys negli anni d'oro la cantante della nave brava eh anche stasera selezione interessante però internet non mi prende mi sa che siamo lontani dalle coste giocherò col dinosauro questo va nei contenuti speciali di chi acquistere gli uti mi sono stati non mi sono stati ma non mi sono stati Grazie a tutti.